Qui con il ministro Allegretti alla fine della partita, allora un pareggio, una clevestre che ha subito forse il gol e l'unico tiro che ricordo da parte del Montoro e poi la tua squadra ha attaccato più volte, ha avuto molte occasioni e ci accontentiamo di questo punto. Esatto, sì, dispiace, perché secondo me la squadra ha fatto bene, ha reagito a una partita che era andata male, hanno lottato, hanno creato, è chiaro che abbiamo sbagliato in tanti particolari, però abbiamo avuto una pallagol, un gol annullato, quindi comunque la squadra ha mostrato la reazione giusta, quindi prendiamoci questo punto, guardiamo avanti, sono positivo, la squadra è positiva, amareggiata chiaramente, però è un buon punto, va bene. Quindi la prestazione che chiedevi ai tuoi ragazzi, sicuramente non saranno contenti per questo punto, però fa sempre fiducia a questa prestazione per una partita importante che arriva già mercoledì, in una settimana che ci sarà comunque un doppio appuntamento, quindi comunque c'è già da pensare alla prossima, però già questa Clivense ha dato dimostrazione di potersene portare a casa le partite. Ma è su queste cose che dobbiamo lavorare, sul fatto di lottare, di avere coraggio, in questo momento è la cosa più importante, si è vista, quindi da questo punto di vista sono soddisfatto, l'importante è che il morale sia sempre alto, perché altrimenti rischiamo di abbatterci una cosa che non deve succedere, perciò guardiamo avanti, recuperiamo domani, poi ci alleniamo in funzione della partita di mercoledì, che sarà difficile come sono difficili tutti. Grazie.